molti di voi purtroppo si sentono succubi vittime della propaganda dei testimoni di geova essi arrivano alle vostre porte a volte in orari che voi neppure pensate e dopo aver suonato dopo che voi avete aperto la porta attaccano attaccano con i loro discorsi e con la loro propaganda molti di voi non sanno come gestirli come prendere la situazione in pugno in realtà loro non vogliono che voi prenda prendiate la conversazione in mano ma vi vogliono silenziosi vi vogliono silenziosi e vogliono che voi annuite alle loro domande e alle loro proposte ma avete mai pensato di poterli mettere in difficoltà seriamente ebbene potete potete metterle in difficoltà potete approfittare del fatto che essi vi vengono a trovare direttamente a casa vostra per testare testare il loro livello di onestà soprattutto perché solitamente durante la fase di propaganda loro amano parlarvi di ciò che potrebbe suscitare in voi curiosità e interesse omettendo di dirvi qualcosa che invece vi scandalizzerebbe e che produrrebbe orrore nelle vostre coscienze e che li allontanerebbe da loro quindi loro sono ben attenti a quelli a quello che devono dirvi sono accorti nell'utilizzare le parole giuste si preparano debitamente nel usare frasi preconfezionate che possono appunto suscitare in voi quell'interesse sperato affinché possiate essere attirati come proseliti e appunto della loro organizzazione fategli questa domanda ma fategli questa domanda qualora un padre o una madre o un figlio o una figlia non volesse essere più testimone di geova come dovrebbe essere trattata tale persona dai membri della famiglia nei loro rapporti familiari ripeto la domanda qualora un padre una madre un figlio una figlia non volesse essere più un testimone di geova non non vuole più non vuole più far parte della dell'associazione non vuole più essere un testimone di geova come dovrebbe essere trattata come trattate voi testimone di geova tale persona dai membri della famiglia nei loro rapporti familiari questa è una domanda che è presente nella torre di guardia del 1954 15 gennaio alla pagina 62 e 63 pensate una rivista del 1954 volete la risposta se sono onesti devono darvi questa risposta io ve la leggo la società torre di guardia risponde così a questa domanda noi oggi non viviamo fra nazioni teocratiche sapete quali sono le nazioni teocratiche sono gli stati islamici gli stati islamici non sono stati democratici ma sono stati teocratici quindi dicono noi oggi non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere stati sterminati da dio e dalla sua organizzazione teocratica loro i testimoni di geova non votano non partecipano ad attività attività politiche di nessun tipo perché si definiscono teocratici loro non sono democratici loro sono teocratici come gli stati islamici quindi dicono se eravamo dentro stati islamici quindi si può essere sterminati da dio si può essere sterminati da dio e dalla sua organizzazione ora mi dovete spiegare come fa dio in questi stati teocratici a sterminare qualcuno che fa qualcosa contro che va contro la sciaria io non ho mai visto dio sterminare nessuno ma solo folle di persone lapidare prendere a sassate il poveretto che ha trasgredito la sciaria quindi sta cosa di utilizzare dio no come distruttore e come sterminatore di peccatori tra virgolette insomma è un trucco grammatico cioè è un trucchetto proprio sporco che non basta un po di cervello per capire ma cosa stai mettendo in mezzo dio negli stati islamici quando qualcuno va contro la sciaria viene lapidato preso a sassate viene messo a una certa distanza poi la folla prende i sassi la famiglia stessa prende i sassi e ammazza la persona che è sotto accusa cosa c'entra dio però qua ci dobbiamo dire che se stavamo in nazioni teocratiche i cui membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da dio e dalla e dalla e dalla poi dopo sua organizzazione terrena per apostasia come era possibile ed era ordinato di fare nella nazione di israele e certo nel vecchio testamento si faceva così nel deserto del sinai e nella terra di palestina e citano la scrittura di deuteronomio 13 da 6 a 11 che ve la leggo uccidilo senz'altro la tua mano sia la prima a levarsi su di lui per su di lui tuo figlio tuo parente a metterlo a morte poi venga la mano di tutto il popolo lapidalo e muoia perché ha cercato di spingerti lungi dall'eterno dall'idio tuo e tutto israele ludrà e temerà e temerà eccetera e non commetterà più nel mezzo di te una simile azione malvagia l'apostasia l'apostasia sarebbe quando uno vuole vuole cambiare religione o non vuole più praticare una determinata religione questo è un atto talmente grave no che che va punito con la morte però i testimoni di geodico non lo possono fare la società torri di guardia dice che non lo può fare perché purtroppo loro non non stanno in queste nazioni teocratiche sti cazzi praticamente se fossero se avessero la libertà di farlo lo farebbero continua essendo circostritti circoscritti dalle leggi e dalle nazioni in cui viviamo ed anche dalle leggi di dio mediante gesù cristo possiamo agire contro gli apostati soltanto fino a un certo punto vale a dire conformandoci alle su alle due serie di leggi la legge dello stato e la legge di dio mediante cristo ci proibiscono di uccidere gli apostati anche se sono membri della nostra stessa famiglia carnale è tuttavia la legge di dio e si non c'è nessuna attenzione è tutto questo ragionamento non supportato da nessuna base scritturale ovviamente è tutta una loro logica sulla base di della scrittura del di deuteronomio 13 la sia 11 che abbiamo letto prima tuttavia la legge di dio dicono sempre loro esige che siano disassociati dalla sua congregazione benché la legge dello stato nel quale dimoriamo ci impone degli obblighi naturali di vivere sotto lo stesso tetto e di mantenere certi rapporti con tali apostati la legge di dio non ammette che un coniuge congedi il proprio consorte perché è divenuto apostata ed è disassociato quindi non ci può essere divorzio in questi casi anche se in altre torre di guardia dicono che però può essere può essere accettata la separazione la separazione insomma due coniugi che non condividono più la stessa fede è ammessa la separazione non il divorzio ma la separazione nemmeno la legge dello stato ammette nella maggioranza dei casi che sia concesso un divorzio per tali motivi e beh voglio vedere il credente fedele e l'apostata ossia il disassociato devono continuare a vivere insieme a rendersi reciprocamente quello che un vero matrimonio richiede un padre non può legalmente congedere il figlio minorenne e voglio vedere dalla sua famiglia a causa di apostasia o disassociazione è un fanciullo o i figlioli minorelli non possono abbandonare il loro padre la loro madre solo perché è diventato infedele a dio e alla sua organizzazione teocratica e sì perché sono minorenni il genitore deve secondo la legge di dio e dell'uomo adempiere i suoi doveri paterni verso il figlio e i figli finché sono minorenni e il figlio o i figli devono prestare sottomissione al genitore finché saranno minorenni cioè finché sono minorenni devono rispettare i genitori che eventualmente non sono più testimoni di geova o finché non avranno il consenso paterno di lasciare la casa naturalmente i figli sono maggiorenni se i figli sono maggiorenni vi può essere una separazione e una rottura vera e propria nei vincoli familiari cioè appena i figli diventano maggiorenni vi può essere una separazione è una rottura vera e propria nei vincoli familiari perché i vincoli spirituali sono già spezzati dicono loro avete capito qual è l'impostazione qual è l'impostazione cosa vi succederebbe a voi che oggi non siete testimoni di geova ma che attraverso abili trucchetti di propaganda di retorica e tutte quelle belle parole che si preparano per venirvi a dire alle vostre porte per farvi diventare testimoni di geova ovviamente poi però l'amara sorpresa il trattamento che dovreste e dovrete subire silenziosamente qualora vorreste recedere recedere da da questa posizione andreste incontro a gravi a gravi ostracismi a gravi forme di emarginazione nel caso di familiari allontanati dai vostri familiari qualora vi trovaste ad avere a che fare con familiari bigotti fanatici che applicano alla lettera le disposizioni e i comandi che la società torre di guardia impone ai suoi associati usano una sola scrittura in questo caso per convalidare tutto questo popò di ragionamento costruito senza basi scritturali Matteo capitolo 18 versetto 17 ve lo leggo ma vi leggo il Matteo capitolo 18 versetto 17 che loro hanno inserito in questo contesto che dice se non ascolta neanche la congregazione poi c'è una parentesi quadra che fu costretta a disassociarlo parentesi quadra ti sia come un uomo delle nazioni e un esattore di tasse parentesi quadra di nuovo per la nazione santificata di Geova quindi inserite due frasi non che non fanno parte del versetto inserite per rafforzare il versetto ma cosa dice realmente questo versetto nelle altre bibbie e per esempio nella bibbia della cei non dice che se non ascolta la congregazione anche perché quando Gesù il Vangelo di Matteo capitolo 18 è Gesù che sta parlando e che sta facendo degli esempi e mentre Gesù parlava e faceva degli esempi a quel tempo non vi erano né congregazioni e né chiese come poteva Gesù parlare di congregazioni e di chiese in un momento in cui era soltanto lui e i dodici apostoli e parlava a questi dodici apostoli non c'erano né congregazioni costituite e né chiese costituite non c'era nessun cristianesimo istituzionalizzato come può trovarsi in questo versetto i termini congregazione o chiesa me lo dovete spiegare serve un po' di logica in effetti la traduzione della cei per esempio dice se poi non ascolterà neppure costoro dillo all'assemblea non alla congregazione dillo all'assemblea e se non ascolterà neanche l'assemblea sia per te come un pagano e un pubblicano ma di cosa stava parlando qui Gesù? di cosa stava parlando qui Gesù? ve lo voglio dire leggiamo dal versetto 15 qui Gesù dice sta facendo un esempio un ragionamento se un tuo fratello commette una colpa commette una colpa va e ammoniscilo fra te e lui solo cioè Gesù sta parlando di due individui se qualcuno ti fa un torto se uno ti fa un torto vai parla con lui ammoniscilo rimprovero ma parla con lui solo cioè tra te e lui non in pubblico non farlo in mezzo agli altri prendilo in privato insomma Gesù sta dando dei consigli come trattare con coloro che ci hanno fatto un torto se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello se ci hai saputo fare se l'hai preso con le buone se avete parlato bene insomma se non ti ascolterà prendi con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni cioè a questo punto la questione si fa più seria se tu hai subito un torto e non riesci a venire a capo con questo tizio insomma portalo in giudizio portalo in giudizio nel senso dice la cosa la devi affrontare con due testimoni quindi dà già l'idea di un processo no? non si sta parlando più di un qualcosa da affrontare tra noi e lui in privato ma a spostare il livello dello scontro su un piano differente su un piano giuridico infatti si parla di due testimoni poi Gesù continua versetto 17 dice se poi non ascolterà neppure costoro dillo all'assemblea e se non ascolterà neanche l'assemblea sia per te come un pagano o un pubblicano si sta parlando insomma di una procedura giuridica come va affrontata nei suoi vari livelli nei suoi vari gradi ma i testimoni di Geova la società torre di guardia non i testimoni di Geova attenzione perché purtroppo i testimoni di Geova non sono loro a fantasticare su queste su queste trovate la società torre di guardia va ad operare questi questa serie di versetti questo contesto per utilizzarlo per un qualcosa che non c'entra niente su quella che era la lapidazione la lapidazione che gli israeliti praticavano quando qualcuno al tempo della al tempo proprio qui si parla la lapidazione insomma era un provvedimento utilizzato nel momento nella legge mosaica prima ancora che venisse Gesù tant'è vero tant'è vero tant'è vero cioè mentre qui la società torre di guardia ancora parla di lapidazione è legittima la lapidazione è paragona l'ostracismo alla lapidazione e che quasi quasi è dispiaciuta non poterla attuare perché non viviamo non vivono in territori teocratici ma democratici mentre Gesù ricordate bene quando impedì la lapidazione di quella prostituta Gesù impedì la lapidazione di una prostituta che era legittima quella lapidazione quella lapidazione che Gesù impedì che scoraggiò a applicare era legittima quella donna andava lapidata secondo la legge secondo la legge mosaica secondo la legge dell'antico testamento Gesù però fece una domanda chi è senza peccato scagli la prima pietra Gesù non voleva che non voleva che questa che questa pratica orribile potesse continuare e poteva essere applicata ancora in questo in questo modo barbaro purtroppo ancora oggi ci sono nazioni dove applicano queste applicano questo metodo la lapidazione e pensate la società torre di guardia si ispira a questi territori teocratici territori islamici fondamentalisti integralisti fanatici la società torre di guardia si ispira a questi per attuare un programma di repressione di punizione nei confronti di chi non vorrebbero più essere testimoni di Geova ma di cosa stiamo parlando e poi e poi pensate la società torre di guardia teme teme di essere messa al bando in questi territori democratici cioè cioè essere resa illegale proprio per le metodologie che adoperano nel rapportarsi con gli associati questa associazione rischia di essere messa al bando cioè considerata illegale illegale per costringere a motivo del fatto che costringe i familiari a vessare gli stessi familiari all'interno a praticare lo stracismo all'interno dei contesti familiari a motivo di questo questa setta questa setta americana questa associazione questa organizzazione potrebbe essere richiamata all'ordine e costretta a modificare il proprio statuto interno il proprio regolamento interno nel rispetto delle leggi e ovviamente se si dovessero rifiutare rischiano di essere considerati fuori legge non regolari loro lo chiamano bando essere messi al bando come è già accaduto per esempio in territorio russo in russia e per questo motivo che i testi mondigeva sono stati messi al bando cioè classificati irregolari proprio per questa pratica perché obbligano all'ostracismo a questa forma di terrorismo morale all'interno delle famiglie stesse tra familiari tra consanguigni con con una serie di ragionamenti perversi con una logica tutta loro tutta arcaica mosaica pensate Gesù abolì la lapidazione loro invece trovano il modo per far soffrire per far soffrire invece coloro che vorrebbero avvalersi del libero arbitrio e del diritto di non praticare più una religione in cui non credono in cui la coscienza non permette di seguire ma è vero anche se che se se la società torre di guardia dovesse abolire dovesse abolire questo loro questa loro disposizione interna beh sono 8 milioni su tutta la terra non lo so se diventerebbero se ne rimarrebbero 4 milioni non lo so forse sto esagerando a dire che rimarrebbero in 4 milioni o anche meno perché oggi molti all'interno di questa associazione non sanno come uscirsene perché purtroppo non vogliono essere ostracizzati dai figli non vogliono essere ostracizzati dai genitori e fingono fingono di essere ancora seguaci della setta pur di non ricevere pur di non incorrere in questo guaio in questo terribile guaio grazie a tutti grazie a tutti